Buon martedì, siamo di nuovo qui insieme con la seconda ricetta di questa settimana. La prima cosa da fare è prendere i carciofi, pulirli e tagliarli tutti a fettine. In una ciotola mescoliamo le uova, il pangrattato, il parmigiano, pepe, aglio, prezzemolo, pane ammollato. Sulla base mettiamo un pochino di cipolla, un'unica fila con le fettine di carciofi, un pochino di pepe, un po' di sale, copriamo con parte della pastella. Ora ripetiamo l'operazione, quindi ricopriamo con altri carciofi, nuovamente pepe e sale e copriamo con altro composto. Avete visto una pugliese che cucina senza olio? No! Cospargete la superficie bene bene con l'olio. Forno, mi raccomando, caldo caldo caldo, 200 gradi, 30 minuti.